Dopo la subrettina Lisa Fusco, un altro napoletano approda sull'isola dei famosi. Si tratta di Patrizio Liva. Il pugile partenopeo è infatti tra i 12 concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che passa dalla RAI a Canale 5. Ai nostri microfoni le sensazioni dell'atleta partenopeo a due giorni dalla partenza. Per me è una sfida, perché so che è un programma molto duro, dove mette a dura prova sia il fisico che la mente. Cosa porterai di Napoli sull'isola? Io di Napoli porterò innanzitutto la mia solarità. Quando si parla di napoletanità io la intendo la solarità che questo popolo ha. Porterò il mio modo di essere molto spiritoso, anche se sono una persona che sa fare gruppo, visto che sono stato un allenatore per tanti anni. Quindi credo di essere una persona molto utile sull'isola. Rocco è un ragazzo molto simpatico, anche perché io lo reputo una persona molto intelligente. e quindi anche lui sarà un bellissimo personaggio. L'importante è che si faccia gruppo e cerchiamo di essere, perché quando poi verranno i mostri della fame sicuramente la mente potrà saltare. E quindi bisogna darsi una mano a vicenda. Hai mangiato parecchio prima di partire? Ho provato, ma non riesco a ingrassare. Ho provato, ma non riesco a ingrassare.